ciao come ti chiami paride ciao pauride ascoltato dove vieni da viva modena ma vengo da lecce ascolta dove metti l'olio extravergine d'oliva io su tutti i condimenti dai primi ai secondi anche ai contorni però l'ho anche usato come maschera di bellezza per i capelli e come come crema per il corpo anche durante una serata romantica molto bene grazie niente si figura